Si asca ora il manager del cascato diventante per il nostro Kevin Cagliari che è la defesa con il Giorgiano Pellasconi. Giorgiano Pellasconi con la proiezione del Giorgiano sulla nostra vita. Giorgiano Pellasconi con la proiezione del Giorgiano Pellasconi. Sì, è la scena che in questo momento è un vittorio di un'epidemia di Svvvv Grazie a tutti, grazie a tutti.